Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo d'avventura che invita a riflettere sull'impatto devastante delle attività umane sull'ecosistema e invita a una maggiore consapevolezza e responsabilità ecologica. Attraverso la ricostruzione storica e scientifica, il testo non è solo un'opera di narrativa ma un monito. Celebra la straordinarietà della vita naturale e ammonisce l'umanità sui rischi di una cieca avidità. La trama del libro L'ultima sirena della scrittrice Ida Turpenen, pubblicato dalla casa editrice Neripozza, è la seguente. Immaginate la massa d'acqua tra Siberia e Alaska, che nel 1741 da poco si chiama Mare di Bering, e una mappa che, nella parte superiore, aspetta ancora di essere disegnata. Questa storia comincia con la spedizione russa del capitano Vitus Bering nel Grande Nord, attraverso 8.000 chilometri di terra siberiana verso il mare ignoto. Dell'equipaggio è parte il naturalista teologo tedesco Georg Wilhelm Steller che, in seguito al naufragio della nave, approda con un pugno di sopravvissuti su un'isoletta del Pacifico. Dove scoprirà specie animali meravigliose, che col suo nome varcheranno i secoli. Come quell'enorme mammifero marino dagli occhi umani, sirena che salirà dagli abissi a salvare con le sue carni morbide i naufraghi dall'inedia. La retina di Steller. Alaska 1859. In alto sulla mappa ora ci sono le macchie delle isole. Il governatore Furugelm deve risanare i conti della compagnia russo-americana, che ha svuotato le terre alascane dalle foche e dalle volpi per farne pellicce. Ma il governatore vuole anche arricchire la sua collezione zoologica, magari con la mitica creatura descritta da Steller. Anche se della gigantesca sirena pare siano rimaste solo le ossa. 1950. Isole Aspskar, Golfo di Finlandia. Il tassidermista John Gromwell, che di mestiere prepara animali per i musei, ora deve ricostruire lo scheletro di un'impressionante bestia marina, la retina di Steller. Estintasi 27 anni dopo la sua scoperta, un tristissimo primato per zoologia, un monito per l'umanità tutta. Nell'ultima sirena, il destino di questa strabiliante creatura, attraverso le vite di collezionisti ossessivi, ambientalisti entusiasti, scienziati inquieti e scienziate mai riconosciute. Si fa simbolo dell'irreversibile distruzione della natura, e al tempo stesso celebra magnificamente il miracolo della vita. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.